All'elezione regionale il Movimento Civico Galvagno vota Francesca Barca, consigliere comunale di Asti. Noi votiamo Francesca Barca! Buongiorno a tutti, sono Francesca Barca, consigliere comunale di Asti del Movimento Civico Galvagno. Io e il mio gruppo sosteniamo in questa circostanza la candidatura alla presidenza della Regione Piemonte Alberto Cirio e io sono candidata nella lista di Forza Italia insieme a Marco Gabusi. Mi sono candidata perché sono convinta che la Regione ha un ruolo molto importante per lo sviluppo del nostro territorio. Ringrazio in anticipo chi vorrà sostenermi e darmi una mano il 26 maggio 2019 per le elezioni regionali. Noi votiamo Francesca Barca!